Grazie a tutti i ragazzi, sono Dr.Mathop, se non ho visto il suo video, trolla, trolla, allora vedrete un video alla nostra reazione, come rideremo, impazziremo e tutto. Spera non sentite quello che dice Silvio, perché mettiamo già questo video sia quello che dice? Comunque, cioè quelli sulla play lo sentono, quelli che lo guardano in più, perché volevamo far vedere anche la nostra reazione, quando lo vediamo e tutto, vabbè fai capire che frutto qua. Allora raga, dirò che lascerò YouTube e lascerò anche il team e lo lascio veramente, il team, lascia solo il team, lascia il team così poi non facciamo uno scherzo in più, no? E spiega il video, invece non puoi entrare più, che è arrivato. No, posso entrare perché io ho abbandonato, non ho abbandonato proprio. Allora. Raga, stoppa un attimo questo video per abbandonare il team e ci vediamo quando abbandonare. No, abbandonalo quando tu dici. No, no, lo abbandono ora. Ah, ok. Stoppa un attimo il video della reazione, lo sto con un attimo e abbandonano un'ottima un team, è bella. Ok, sto fanno. Ma poi rimane il team? Non lo so. Team, 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 team. Abbandona gruppo, abbandona. No, scusse, sto fermando. Allora. Ciao a tutti ragazzi, sono qui in un video reazione di come trolleremo Silvio del team. Già abbandonato il team, così Silvio dirà, ma perché l'ho abbandonato il team? Io dico Silvio abbandonato il team perché è la cosa che ti voglio dire. Quindi andiamo a partita e te lo dirò. No, dalla play. Ovviamente voi non sentite quello che dice Silvio. Poi non mi mettiamo due video oggi o domani. Nel secondo video, oggi, nel secondo video, vedrete nel primo video che esce, vedrete quando parliamo di Silvio. Quindi questo video che vedrete sarà quando faremo la reazione. Adesso, Silvio, Silvio, Silvio. Vabbè, si è rotto. Raga, se a me non mi vedete. Silvio! 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 si oh Silvio ora viene Benedetto ah eccolo Benedetto Silvio per questa cosa importante andiamo in una partita in coppia andiamo in una partita si lo so dobbiamo fare coppia no no aspetta no aspetta facciamoci una coppia facciamoci una facciamoci facciamoci una partita così perché ti devo spiegare sta cosa va bene sta cosa è importante ok tallone oddio l'ho sbattuto sul pizzo della sedia che dolore Silvio a domenica ma c'è stata 10 poi sono lavato mi sono vestito mi ha detto vattene a fascino che baglio abbiamo la piscina comunque sono andato giù mio cugino mi ha preso e mi ha buttato nella piscina stava vogando andiamo al lago andiamo al lago sta cosa importante guardate che ti devo dire se vedi già dal telefono nel team c'è Ivan lo so no no non c'è Ivan l'ho abbandonato perché? per una cosa importante perché lascerò Fortnite perché? non è che non mi piace è un prank no non è un prank e giuralo sulla tua famiglia lo giuro sulla mia famiglia bene lo fanno sì infatti mi voleva costringere a non lasciare Fortnite però io lo sto lasciando perché sai che a settembre devo andare in prima media e quindi devo studiare di più tipo Fortnite non lo userò più sì io ho abbandonato pure il canale c'è ha detto non lo regalo a qualcun altro il canale però il team ha detto deve essere sempre per esempio io tu e Ivan con questo qua che gli regalerà tipo il canale te lo posso dare a te o a Jenny o a Ivan e io lo lascerò proprio infatti sto registrando per dire sto registrando aspettando aspettate un attimo sta venendo un attimo mia mamma a Becky allora cioè perché devo impegnarmi più sui studi cioè nella quinta sto andando malissimo capito nella quinta sono andato malissimo per questo quindi devo impegnarmi un poco più sui studi quindi lascerò il canale lo darò a qualcuno o a qualcuno del nostro del mio ex team e lo manterrete voi lo porterete voi avanti giuro sì però secondo me stai sbagliando venete no vero venete alla fine lo stesso studi eh no perché c'è poi cioè non potrò neanche giocare no fra tu devi rimanere perché tu sarai importante per il team ma cosa un team è formato da 4 fra troverete un mio iscritto troverete un mio iscritto sì venete però potresti tutti venite prima di studiare il team cioè facciamo le linee così no non pensi che sta sbagliando no perché no no o se ne vai se tu se ne vai me cioè facciamo i video una volta ogni istante fra tu hai dato la casa leggendora comunque fra non ci posso fare niente mica ora ne facciamo sempre no 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 tu devi rimanere perché tutti quanti rimangono solo io fra solo io non posso rimanere perché mi devo impegnare più sugli studi tipo mia mamma quando ma perché mia mamma quando io quando io farò la prima media mi non mi mi toglierà la play per impegnarmi di più sui studi a si è sciottissimo eh l'ho sciottato comunque fra no fra no io non rimango neppure no fra tu devi rimanere lo sai perché perché mia mamma mi toglierà la play quindi è inutile che sto nel team perché mia mamma dice no fra tu devi rimanere tu sarai il più forte del team se io me ne vado perché non ci lasciate solo tu no tu me lo vuoi continuare o no sto team silvio no perché no silvio lo continuerete voi si troverete sì ma ovviamente benedetto pure se l'ha abbandonato ricordati che lui sarà sempre nel team perché pure se la mamma glielo toglierà ovviamente non è che non lo farà giocare mai ogni tanto no fra geni mia geni mi ha picciato prima perché io non me ne dovevo andare che sta pari anni cioè pari che stai dicendo eh vabbè non mi foste non è vero fra prima mi ha picciato perché perché non me ne dovevo andare dal team e mi ha picciato pure male mi sono rotto un ginocchio stai pariato no fra abbandono fra lo dobbiamo portare avanti fra troverete uno più forte di me e voi e voi dovrete portare voi dovrete portare il mio canale avanti infatti 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 questo video è di addio questo video che sto facendo che stiamo parlando è per addio è per addio e per addio c'è per me voi invece lo dovete continuare silvio silvio posso parlare allora questo canale lo sai perché lo voglio portare avanti che abbiamo un sacco di iscritti no per gli iscritti no ma per benedetto perché lui è restato per benedetto io lo porto avanti non per me pure il team io lo voglio portare avanti ma per benedetto non per me fra parliamo in partita ora concentriamoci un poco fra per l'ultima partita di addio su youtube dobbiamo fare una vittoria reale almeno per dedicarmela a me che me ne devo andare fra per forza mamma mi toglierà la play per fino alla terza media fra ma se tu lo abbandoni il team lo abbandono pure io punto è fine fra mia mamma mi toglierà la play per tre anni fra che cazzo posso fare eh per tre anni fra perché ma non ti fanno giocare mai no no perché mia mamma dice che mi dovevo fra in quinta sono andato malissimo ho avuto tutti sei e sette infatti ho avuto tutti sei e sette anche due cinque infatti ho avuto due cinque e due sei e due sette eh la due ha qualche volta l'ha avuto però c'è nel materie semplici educazione fisica ha avuto sei infatti in educazione fisica fra ho avuto sei io ho preso tutti otto e nove per qualcuno quindi eh fra che ci posso fare biadatti tu sei brava la scuola io a me non me ne fregavo non cazzo fra fra si fio fallo per te fra fra lo dovete fare fra fra lo dovete portare avanti per me fra perché in primo superiore io ritornerò nel team riprenderò il mio account riprenderò il mio account youtube si ma scusa sua mamma no benedè non ti farà neanche giocare durante le vacanze di natale si ma si però c'è l'ho iniziato ad abbandonare no nelle prime mesi mica non te lo faccio neanche nelle vacanze nelle vacanze può essere questo può essere non lo vedo bene no no Sì, ragazzi, non c'è un ticcato. Grazie, l'ho fatto. Aia. Io l'ho capito. Grazie. Tutti contro di me. Silvia, avevi colpi? Eh, no, ti hai preso il mio gioco. Sì, stai zitta. Stiamo parlando di cose importanti. Fra, non posso. Fra, me ne devo scappare. Fra, prepara con me. Silvio, ma ora quindi lo abbandoni? Sì, lo abbandoni. Sì, Silvio, ma fallo per bene. Ah, ti ho contato. Sì, mi vuole per bene, ma. Sì, Silvio, fallo per bene. Vai, che ho detto di no. Allora, non posso fare niente. Ciao! Ciao! Woo! Ciao! Ciao!